Qual è stata la reazione? Magari all'inizio può anche pensare che fosse una cosa corretta, forse avevate sbagliato voi, qualcuno dei suoi collaboratori, scrivendo che non era mai stato aggiornato poteva dire guerra, guarda che è sbagliato, non è così, prego. No, infatti proprio quando io ricevete questa mail che era con un tono piuttosto intimidatorio, la prima cosa che pensai era che la guerra fosse in buona fede e quindi fondamentalmente che ci fosse effettivamente un errore nel rapporto e ci fosse stato un aggiornamento al piano del 2006. Quindi chiesi al team di fare tutte le verifiche del caso, di confrontare tutti i piani che venivano chiamati pandemici per l'Italia dal 2006 fino ad oggi e poi mi accorsi che in realtà non si trattava affatto di buona fede e quindi diciamo che il tono della mail e anche la telefonata che ci fu subito dopo assunse tutto un altro connotato. Perché si trattava di un copia in colla e lui quindi stava cercando evidentemente di coprire o di chiedere a me di falsificare qualcosa in un periodo in cui lui era stato direttore per la prevenzione. Quindi io vedevo in questo un gravissimo complito di interesse rispetto alla posizione che occupa oggi. La fermo un secondo.